Filastrocca dell'impugnatura Filastrocca dell'impugnatura che ci aiuta nella scrittura Pollice ed indice si danno i bacetti Sotto c'è il medio che li tiene stretti Mentre il mignolo e l'anulare come due ruote aiutano a camminare Sai, l'altra mano ha un ruolo importante Ti infermo il foglio da brava aiutante Quindi ricorda che tutte le dita ci aiutano a scrivere senza fatica Se poi anche il corpo fa la sua parte la mia scrittura diventerà un'arte Se siedo composto e uso tutte le dita scriverò bene per tutta la vita Al prossimo video Bye bye Grazie a tutti